amici youtube allora ragazzi parliamo di cerignola cavese partita di ieri e la foggia ha vinto con doppietta di millico a turris ragazzi poi parlerò farò un video a parte sulla foggia i zauri 7 punti in 3 partite e la foggia si sta salvando parliamo della cerignola che ha fatto un'ottima partita ieri contro una buonissima cavese ha vinto 3 a 1 con doppietta di giallo e salvemi allora ragazzi vado veloci con le pagelle è stata una buona partita del cerignola la doppietta di giallo nel primo tempo poi nel secondo tempo la cavese gioca meglio trovando il gol da pallina attiva ancora un ennesimo gol da pallina attiva e poi il il rosso che viene dato e la cavese si fa male da sola e poi il 3 a 1 di salvemi al novantunesimo vado con le pagelle con saracco voto 8 buona partita di saracco salva delle buone inserzioni della partita nel primo tempo anche nel secondo tempo salvando il cerignola da un possibile pareggio vicentin voto 8 grande partita a livello di impostazione il solito vicentin galo campopaccio voto 7 un buon primo tempo si sta rimettendo in condizione ma non era ancora in condizione perfetta e poi ha giocato da difensore centrale perché era squalificato cioè era infortunato gonnelli che è uscito nella partita di monopoli Velasquez voto 6 e mezzo gran partita di Velasquez sostituisce Martunelli che prende 6 vado col centrocampo Coccia voto 8 gran partita si è fatto l'inserzione da 80 con i 70 metri di campo e l'assist per Iallo Tascone voto 8 anche lui buonissima partita ragazzi il migliore in campo buono nel primo tempo un po' pecca a livello offensivo facendo e sbagliando quelle due occasioni ma bravo il portiere della Cavesi in quel caso Palucci voto 8 gran partita il solito stacanovista ha fatto anche dei buoni tiri mi è piaciuto Tentardini no Bianchini voto 7 anche Bianchini ha fatto una buona partita come a Monopoli a livello di impostazione a livello di centrocampo Tentardini voto 8 gran partita di Tentardini come ha spinto ieri gran primo tempo mi è piaciuto bravo bravo Tentardini è quello che voglio vedere di Tentardini Russo 8 sostituito ragazzi tra l'altro sta andando a registrare la carriera con Luca Russo purtroppo non nel Cerignola vedremo dove lo catalogherò se magari in Serie A oppure all'estero adesso vediamo io lo vedrei molto bene in Serie A adesso poi vedremo Salvenini voto 8 il gol finalmente lo ritrova dopo 4 giornate il migliore in campo gol al 91 ho avuto almeno 4-5 occasioni per fare l'altro gol Yallo voto 10 grande partita il migliore in assoluto del match doppietta è veramente un grande attaccante Yallo un buonissimo sostituto al rientro di Cuppone mister Raffaele voto 8 è lui il vero vate ragazzi super Raffaele ragazzi ci sta portando veramente a un secondo posto e sicuramente Raffaele studierà l'intera settimana per cercare di battere il Benevento ragazzi io dico che il Benevento è una squadra battibile perché sicuramente il Benevento ha dei giocatori si a UTI è un grandissimo allenatore ma ha tanti giovani quindi secondo me a livello di centrocampo il Cegnola è molto ma molto meglio e da anni che oramai questa squadra gioca con lo stesso centrocampo e sicuramente ragazzi saprà come andare al vigorito a vincere la partita in caso di vittoria ragazzi ci porteremo a meno 3 dal Benevento ma ragazzi il Benevento ha ritrovato la vittoria a Taranto ma dopo un pareggio e una sconfitta quindi secondo me il Benevento è una squadra partibile finisco qua il video e ci vediamo per i prossimi video bello a tutti e il Benevento e il Benevento Grazie.